Salve a tutti, mi chiamo Giordano, vengo dall'Italia, dalla Sicilia, sono contento di essere qui, ero già stato anche ad Istanbul diversi anni fa, ho visitato la città che è molto bella e invece in questa occasione mi trovo qui per l'evento che immaginate e che vedete. Questa idea mi girava un po' in testa da qualche tempo, da un paio d'anni a questa parte, però non avevo mai trovato il coraggio, il sostegno, le informazioni adatte che mi potessero spingere a questo intervento o a questo trapianto che abbiamo qui effettuato in questi giorni. Qualche settimana fa, proprio non più di 3 settimane fa, sono uscito con degli amici e scherzando la battutina sui capelli eccetera eccetera, è intervenuto un ragazzo che mi ha detto guarda che io 3 mesi fa sono stato a Istanbul dal dottor Balwi, eliter transplant e questo è il risultato e dopo 3 mesi onestamente quel ragazzo aveva i capelli che io neanche mi ero mai reso conto che potesse aver avuto un intervento, non lo conoscevo da prima, però poi lui mi ha fatto vedere le foto di come era prima ed effettivamente in 3 mesi per me un risultato sbalorditivo, magari poi erano 3 mesi e poco più però già i risultati si vedevano e quindi lui era un po' soddisfatto e quindi mi ha invogliato, mi ha incitato io neanche chiedevo in realtà, era lui che di sua spontanea volontà proprio insisteva, evidentemente perché era soddisfatto sono tornato a casa tutto regolare, poi ci ho ripensato così parlando con un amico mio e mi veniva in mente l'entusiasmo di questo ragazzo e effettivamente questa sua soddisfazione mi ha spinto a prendere informazioni allorché l'ho contattato, mi sono fatto dare qui i contatti prima di Claudia che è una persona molto disponibile insomma gentilissima, cordiale su WhatsApp, mi ha dato tutte le informazioni, quando poi abbiamo proprio preso il volo, quindi in qualche modo ho bloccato le giornate per l'intervento, c'è stata un'altra persona Noemi che mi ha seguito sempre su WhatsApp, anche lei è disponibilissima, parlamo l'italiano perché questa cosa è molto importante, io con l'inglese bene o male me la cavo però avere un supporto in italiano che parlasse bene l'italiano per me era una cosa importante e devo dire che ce l'ho avuto e ce l'ho avuto anche quando sono arrivato qua, grazie anche a Enda, Enda è l'assistente dottor Balwi, traduttrice italiana che mi ha seguito in ogni passo di questo percorso, la soddisfazione è stata tanta perché già all'aeroporto ho trovato qualcuno col mio nome, col cartello che mi è venuto a prendere, mi ha portato in albergo un bel albergo, oltretutto l'albergo è anche qua vicino, si può arrivare anche a piedi ma vi dico che per ogni transfer c'è un autista che ti viene a prendere alla reception e ti accompagna qui e viceversa, quindi un supporto a tutto tondo, andiamo un po' più sul concreto, l'intervento, io devo essere sincero ho molto in tensione all'inizio perché non avevo visto video, non mi avevo fatto spiegare il dettaglio, non sapevo esattamente le fasi come si potevano svolgere, avevo una vaga idea, quindi ero un po' timoroso, c'è sempre un po' la paura del dolore e quant'altro, devo dirvi che è stato invece dopo la prima ora ho cominciato poi veramente a rilassarmi proprio perché non c'era motivo di stare tesi e nervosi, in quanto il tutto è stato molto indolore, molto soft, un po' di più la parte dell'anestesia però loro hanno una tecnica particolare, ti iniettano con un meccanismo questa anestesia iniziale che non senti dei piccoli pizzichi, niente di più e poi da lì una volta che l'anestesia ha il sopravvento non ti accorgi proprio di nulla, capisci magari cosa sta avvenendo ma non ti accorgi del dolore, vi dico che non nella prima fase di estrazione ma forse nella seconda ma sicuramente nella terza quella di impiantazione mi sono anche un po' addormentato, quindi proprio per dirvi come ero rilassato, ho dormito anche perché insomma la notte prima non avevo potuto dormire bene per pensieri miei familiari e devo dirvi che durante il trapianto io ho dormito a pezzi di 5-10 minuti, non so neanche me ne rendo conto, ogni tanto mi svegliavo, vedevo l'orologio e il tempo scorreva, nell'arco di 8-9 ore circa hanno completato tutto il processo e devo dirvi che la soddisfazione a oggi è tanta, anche perché non mi ero reso conto in Italia di quanto mi mancasse, poi qui il Dottor Balbi prima mi ha fatto il controllo, chiaramente hanno fatto anche l'analisi del sangue prima mi hanno dato i risultati, hanno verificato che tutto fosse, che si potesse effettuare l'intervento, il Dottor Balbi quando mi ha spettinato un po' che ha scoperto le zone mi sono reso conto che era peggio di quello che immaginassi e niente, sembra allo stato attuale, sono confidente che poi nei prossimi mesi potrò darvi conferma anche perché dovrei tornare qui ad ottobre, sembra che il risultato sia eccezionale, al momento mi sento soddisfatto, sia perché l'intervento è stato indolore, sia perché il post intervento è stato abbastanza indolore, solo un po' di difficoltà la prima, la seconda notte a prendere sonno, però una volta che poi ti abitui è facile, loro danno delle indicazioni dettagliate, chiare, scritte nero su bianco in italiano, con foto, danno anche un corredo di supporto, un cuscino particolare per dormire, dei prodotti, le medicine per il post operatore antidolorifici, antibiotici, tutti inclusi nel pacchetto iniziale che è stato preventivato, lo shampoo, la lozione, insomma soddisfazione, oggi sono stato qui per il primo shampoo, ieri mi hanno tolto le fasci, ho fatto l'intervento l'altro ieri, oggi ho fatto il primo shampoo, tornerò qui domattina per il secondo shampoo e poi tornerò in Italia, nel frattempo ho potuto approfittare prendendo insomma il taxi di tornare al centro, comprare qualcosa, fare un po' di shopping per mia moglie, mia figlia e sono soddisfatto, speravo in un meteo più mite, ma va bene così, c'è stato un po' di pioggia, ma insomma a parte questo la città è bella, ne vale la pena visitarla e soprattutto se avete qualche dubbio sul trapianto di capelli vale la pena affrontare questa avventura, possibilmente come ho fatto io anche con un amico, un buon supporto, perché comunque è sempre buono vivere queste giornate in maniera rilassata, spensierata e che dirvi, sono soddisfatto, sono contento, forse un po' emozionato, scusatemi, però non sono abituato alle interviste, ma devo dirvi che il risultato ottenuto fino adesso, il modo nel quale mi hanno trattato, mi ha spinto a poter condividere con voi questa mia esperienza. Grazie Grazie